ciao ragazzi allora siamo partiti ventisesimi qui a monza ai 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 già le prime botte con questa formula pro dei studio 397 che ha fatto uscire questa mod dlc a pagamento proprio ieri 4 euro 99 ed è bellissima ragazzi guardate graficamente sentite che sound pazzesco e la fisica il force feedback mamma mia ragazzi spettacolare siamo a monza su quello ufficiale sempre in dlc settimana scorso uscito ed è bellissima 24 skin a disposizione una più bella dell'altra anche drs qua attivo a meno di un secondo al terzo giro questa è una gara di 10 giri e volevo assolutamente provarla e condividerla con voi che è bellissima veramente siamo attualmente diciannovesimi su 26 partiti dietro qui si sente particolarmente la scia e bisogna settare bene le marce perché arriva limitatore praticamente quasi subito quello che ho apprezzato subito di questa macchina qua è che ogni variazione di setup si sente al volante alla mano veramente fatto molto bene qui ragazzi guarda come fanno zig zagli davanti un po di concentrazione qui alla prima variante qua parte ragazzi che se gli dai gas mamma mia viaggiano lì davanti a una velocità pazzesca c'ha una frenata potentissima oh drs attivo ragazzi attenzione al prossimo giro mi pare o forse qui vediamo a detenzione detection zone quindi drs vediamo fino a quanto possiamo spingerla dobbiamo frenare molto vicini dobbiamo sempre un'occhiatina dietro ragazzi perché mamma mia è una bomba sta macchina qua cosa ho fatto? mamma mia come me lo sono fumato ragazzi questa macchina qua ti porta a spingere a respingere i tuoi limiti guarda come arriva questo con il drs dietro sei largo amico mio ma io stringo cioè ragazzi sono in diciottesima posizione immaginate guarda questo come arriva vai chicca richiede tanta concentrazione questa macchina qua però veramente ragazzi ne vale la pena è molto 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 divertente è molto divertente uh mamma mia che dive bomb ragazzi cioè ho messo il il cambio l'ho allungato più possibile e non riesco a farla andare più di 339 dovrei allungare ancora la settima mamma mia vai drs comunque cioè io immagino già una forfanna con questa macchina qua ragazzi spettacolare ma da commentare mamma mia oh scusa un altro dive bomb ragazzi vabbè è la ia che ci frega guarda come arriva oh ragazzi sono tre giri che non riesco a scollarmi dalla diciottesima posizione perché lì davanti stanno facendo dei tempi stratosferici uh attenzione errore oh l'ho chiamata sedicesima sono uscito a cannone doppia scia attenzione lungo rettifilo senza drs quello davanti ce l'ha però 340 in scia 340 mamma c'è mi sa che c'è un errore ragazzi drs dietro 339 scia 342 oh che è sta storia no dai non ci credo cosa è sta storia cioè vai più con la scia che col drs vabbè può darsi eh però mi fa ridere sta cosa qua che c'è drs scia 339 ma ho trovato un glitch ah 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 guarda drs vabbè qua no però cioè con il drs fa fatica adesso lo vediamo nel lungo rettifilo drs 339 339 se non sbaglio ho visto un drs che si è chiuso in prossimità della curva drs anche lui davanti mamma mia che interno che ti ho fatto 346 346 dodicesimi su 26 last lap ultimo giro ultimo giro non ha girato non ha girato vabbè sta sottosterzando in questo momento mamma mia neanche il drs ragazzi non ce n'è non si va a prendere la tredicesima l'undicesima posizione dodicesima 14 posizioni recuperate la scaricquarta si fa benissimo era giusto per testare ragazzi questa sintesi di questa gara che vi ho fatto dei momenti più salienti che era interessante provarla questa formula veramente è grandissima bellissima la adoro ragazzi la adoro veramente questa macchina qua è bellissima sicuramente da migliorare tanto sul setup anche se mi pare che il setup di base sia fatto molto bene ragazzi niente io se devo consigliarvela se avete 5 euro da mettere da qualche parte anzi 4 euro 4 euro e 99 non esitate niente ragazzi tutto veramente positivo 24 skin come vi dicevo un sound pazzesco una qualità grafica pazzesca niente che dirvi di più ragazzi ci vediamo prestissimo lasciate un pollice iscrivetevi al canale da Fabrice è tutto ciao ciao